Molto bene, sono molto contento di avere qui questa sera un giovane autore che è venuto già a trovarmi ad un'altra trasmissione, Quinto Potere, l'anno scorso. E allora abbiamo qui con noi questa sera Marco Emilio Boga. Buonasera e benvenuto Marco. Buonasera, buonasera. Allora, Marco sei un giovane autore, a parte che gli amici di One TV ormai ti conoscono, sei già venuto, come dicevo, a Quinto Potere. Marco è uno scrittore, un autore che scrive poesie. Quindi è una cosa un po' inusuale, un po' strana. Che cos'è che ti spinge a scrivere poesie, non magari un romanzo? Sai che non lo so. No, nel senso è una cosa molto spontanea, viene dal cuore, quindi da dentro. Preferisco la poesia perché è sentimento puro, solo per questo. Mi sto adoperando per scrivere anche un romanzo, quindi per forza perché devo diversificare un po'. Però la poesia, secondo me, è l'unica che può trasmettere veramente i sentimenti in una maniera molto più semplice, molto più diretta, molto più personale e intima. E tu hai scritto, tra gli altri, ad un passo tra la mente e il cuore. Facciamo vedere, dov'è che possiamo prenderlo? Facciamo subito. A parte, beh, online ormai si può prendere tutto. Quindi voi potete andare su qualsiasi sito, su IBS, Adori, Feltrinelli e lo trovate. C'è anche nella versione ebook dei primi due, del terzo non so se è ancora uscito, però c'è anche nella versione ebook, lo potete trovare anche su iTunes. Quindi più semplice di così, esatto. Non c'è nessun problema per trovarlo. Scrivere un romanzo, no? Uno scrive un romanzo, decide di scriverlo, si mette lì e scrive, inizia. Invece le poesie, com'è scrivere un libro di poesie? Cioè, tu decidi un giorno, scrivo un libro di poesie, ci metto dentro 30 poesie, non lo so, per dire. Oppure inizia a scrivere un po' di poesie e poi fai una raccolta. Come funziona? Beh, generalmente, almeno nel mio caso, io sono un po' un casinista, quindi avviene a caso. Però è molto naturale. Cioè, nasce tutto per caso. Io inizio, mi viene l'ispirazione, io scrivo, poi metto da parte un po' di poesie e dopo dico, beh, ne ho sotto banco quante, un bel po', posso farci un libro? Sì. E poi provo a proporre il libro. Ovviamente, magari alcune poesie che sono un po' più intime o altre che sono un pochettino meno belle, ecco, me le tengo per me, però generalmente funziona così. Hai un poeta a cui ti ispiri? Sinceramente no, però mi piace molto, molto, vabbè, Leopardi, gioco facile. Se no, mi piace molto... Io ceco a Giolieri. Certo, è molto più divertente. Sì, in effetti, Leopardi, mi piace Ungaretti, sono tutti molto, molto allegri, devo ammetterlo. Sì, è una felicità unica. Però sì, mi piacciono particolarmente loro. Alcune mie poesie sono abbastanza ermetiche per quello di Ungaretti. E tu mi raccontavi prima di venire qui che hai fondato una radio, una web radio. Ho, sono, beh, fondato, abbiamo fondato insieme il gruppo dell'Università degli Studi dell'Insubria, ha fondato una web radio che si chiama Flusso 98, quindi un nome molto, molto bello, molto originale perché siamo un flusso continuo di informazioni, un flusso continuo di musica. Ed è nato per l'insieme di più idee. Io volevo già fare qualcosa di simile nel ramo e Matteo Ramelli, che è questo ragazzo che studia all'Insubria, mi ha detto, guarda, io voglio fondare una web radio. Ti andrebbe di far parte del progetto? Facciamo i cast, eccetera, e abbiamo fatto una cosa seria e dopo la selezione abbiamo iniziato a lavorare. Adesso è qualche mesetto che lavoriamo e che siamo attivi. Speriamo ovviamente di avere sempre maggior pubblico. La nostra base è l'Università dell'Insubria, però se riusciamo anche a diffonderci nel milanese, non ci sono affatto problemi. Allora, torniamo alla scrittura. Quando è che hai iniziato il tuo amore per le poesie proprio? Per le poesie è un amore che nasce da lontanissimo, nel senso che da quando ero piccolo. Poi è maturato, crescendo, e quando sono arrivato alla maggiore età, quindi dai 18 anni in poi, ho iniziato a pensare a una possibile pubblicazione. Perché ovviamente scrivere scrivevo fin da piccolo e lo vedevo che era una cosa abbastanza naturale, d'altronde la poesia è il sentimento, quindi io sono una persona che ama il sentimento, che ha tanto sentimento. E per la mia cultura, a livello familiare ovviamente, e per una realtà, quella che ho vissuto, che mi ha portato ad essere molto sensibile. Quindi devo ringraziare sicuramente i miei genitori che mi hanno fatto così. E poi la natura, insomma, le circostanze. Adesso per tornare un attimo sul concreto, questa è una domanda che faccio proprio a tutti gli autori, gli scrittori che vengono qui all'Uantivicio. Quali sono le difficoltà a cui si va incontro nel proporre un libro? Proporre un libro o proporre una poesia? Perché c'è differenza. No, allora che proporre una poesia. Allora, per proporre un libro, generalmente, devi saperti porre. Al pubblico questo, giusto? Mi stai chiedendo al pubblico. Sì, 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 al pubblico. Sì, devi saperti proporre, così come nella poesia. In realtà io ho visto che tanti sono schizzinosi nei confronti della poesia. Non la considerano qualcosa di semplice, anzi pensano che sia difficilissima, eccetera. In realtà poi quando ne parli e vai a toccarli nel profondo, allora ti vengono a dire, ma mi piace, mi interessa, posso dare un'occhiata al libro, eccetera. Devi però saperli cogliere. Di solito fa tanto trasmettere un'emozione. Tu sei anche vicepresidente dell'Associazione Libero Libro di Maccherio. Vi occupate della... Salute Iwano, che magari mi starà guardando. Sì, poi ci verrà a trovare, tra l'altro. Come... Voi aiutate proprio i giovani in questo, no? Sì. A proporre le loro opere. Giovani o vecchi. Giovani, ah, ok. Insomma, non c'è distinzione d'età, perché tutti sono scritto, possono essere scrittori a qualsiasi età, quindi... Che cosa ho fatto in concreto? In concreto, a parte un po' di tempo fa facevamo presentazioni di libri, adesso facciamo più una sorta di manuale di utilizzo. No, manuale per i giovani autori o per autori magari più affermati, ma non ovviamente autori affermati di livello mondiale, ma di realtà piccole, in modo tale da portare, da migliorare ovviamente. E ci proponiamo anche di realizzare sogni, perché abbiamo un progetto che è il sogno nel cassetto, che è quello per i romanzi inediti e gli autori inediti, certo. Di tutte le età, come dicevo ovviamente. Certo, perché sì, non sono solo i giovani che iniziano a scrivere. Assolutamente. Si arrivano molti scritti di persone comunque anche di 40, 50 anni, che è il loro primo romanzo. Ma appunto, perché? Perché hanno un lavoro, è un loro sogno e vogliono realizzarlo. Allora provano a mandarci il materiale e alcuni sono veramente, veramente ottimi. Senti, il libro che secondo te tutti, almeno una volta nella vita, devono leggere? Uno, uno solo è difficile. Poi a me piace la storia, perciò io direi di leggere l'Aivano di Walter Scott. So che non è per tutti, però è un romanzo storico, però è molto, molto bello. Se amate l'avventura, se siete dei cavalieri, vi consiglio l'Aivano. E poi una domanda sempre che faccio a tutti, oltre ad essere uno scrittore, un autore, sei anche un lettore, immagino. Certo. Perché non si può essere scrittori, penso, se non si legge. Tu quando è che leggi? Questo è un sondaggio che io faccio tutte le sere quando viene ospite un autore. Poi alla fine delle puntate... Vado, guarda, vado ad ispirazione. Non c'è un reale momento, vado ad ispirazione. Semplicemente l'altra mattina, per esempio, mi sono svegliato alle quattro. Non chiedermi perché. Mi sono svegliato... Devi andare in bagno a fare la pipì, insomma. No, no, lì è proprio non riuscivo più a dormire. Tendenzialmente è così, ti sveglia la mattina perché devi svuotare la vescica. In realtà questa volta, no, era proprio, non lo so, pensieri. E quindi mi sono svegliato e ho letto un libro, così. Non hai un orario preciso, un periodo preciso della giornata. No, non sono come canto un metodico che mi metto lì e dico, o almeno canto dell'ultima parte della vita perché prima era più sregolare. Ok. Canto è metodico che dice, mi fermo lì, leggo dalle 5 alle 6. No, 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 ecco quando ho tempo. E per scrivere un libro, cioè per scrivere una poesia, si usa una tecnica particolare? Cioè, vabbè, ovviamente se uno scrive in endecasillabi, quello che so io, ovviamente c'è un metodo. È un grande, perché scrivere in endecasillabi è comunque difficile. Eh, non saprei neanche, assolutamente. Cioè, c'è un metodo o qualcosa? Oppure? Boh, io utilizzo molto, una forma più libera. Anche nel sonetto io utilizzo delle strutture a volte classiche come quella del sonetto, ma la trasformo, la trasformo in un qualcosa di diverso, con un verso più o meno libero, più o meno sciolto. Vedo sempre di essere più o meno in linea con gli altri versi, ma senza contare il numero di sillabe. Scrivere poesia dipende che tipo di poesia non è difficile. Se la senti dentro, se hai un qualcosa da comunicare ed è un sentimento forte, di solito no. Sì, non è un problema. Anche perché la poesia non ha uno schema prefissato. Chi ti dice che la poesia è endecasillabi, che la poesia è Dante, Petrarca, è perché non la sa scrivere o non l'ha mai letta. Perché la poesia è vita, è un qualcosa in continuo mutamento e non può avere una forma, una struttura ben precisa. Perfetto. Tu mi raccontavi anche la scorsa volta, quando sei venuto a Quinto Potere, che hai portato in giro, stai portando in giro, nelle piazze, nelle biblioteche, nei teatri, uno spettacolo di musica e poesia. Sì, attualmente siamo un attimo in... In stand-by. In stand-by si fermi con le doppie frecce, però con le quattro frecce, però sì, facevo questo spettacolo di musica e poesia, spero poi di riprendere ovviamente. Di che cosa si tratta? Si tratta di poesia con accompagnamento musicale, però non il solito, quindi non immaginatevi una cosa triste, cupa, la solita chitarra classica, no, che si mette li tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim. Ma è una cosa... Tanto uno spoggi! Esatto. Ho visto un leone. No, in realtà è totalmente diverso. È una recitazione delle mie poesie, ma siccome la recito io, non è una recitazione, è una semplice lettura un po' più particolare, con accompagnamento musicale, quindi un dialogo tra il mio recitare... Scusate, Il mio recitare e la musica, quindi accompagnamento con chitarra, che non è classica, ma è o acustica o elettrica e con un accompagnamento di tromba, che è veramente uno spettacolo. Fantastico. Progetti futuri? Progetti futuri in apparecchi. Come ti raccontavo, spero che a breve esca il mio libro per bambini. Sì, perché è una cosa bellissima, mi ricordo che tu hai scritto questo libro per bambini e poi hai chiesto ad alcuni bambini... Esatto, ho chiesto all'Istituto Pavoni di Tradate, una scuola media, di farmi le immagini. Loro sono stati gentilissimi perché il professore, che tra l'altro era stato mio professore delle medie, il professor Luoni è stato gentilissimo e mi ha detto non ti preoccupare, lo faccio fare ai ragazzi. Mi ha detto ma no, non voglio rubare tempo e mi fa non ti preoccupare. Glielo facciamo fare per compito durante le lezioni, a posto di fare il disegno degli altri, gli faccio fare i tuoi disegni. E quindi com'era? Cioè loro leggevano il tuo racconto e poi dal racconto dovevano immaginare... Esatto, avevano di fronte, per esempio, il primo capitolo e il primo capitolo, quale secondo loro era la cosa più importante, la cosa da disegnare e l'hanno realizzato. Ed è stato bellissimo, davvero. Altri progetti? Altri progetti, a parte qualche romanzo che spero di finire il più presto possibile. Quello. Ne ho tanti, davvero tanti. Romanzi, beh, poi con la web radio chissà, magari fare... Magari facciamo qualcosa insieme, con la web radio e One TV, insieme facciamo... Noi facciamo un programma musicale sabato mattina, sempre in diretta, dalle 10 e mezza alle 12 e 30, magari possiamo fare qualcosa insieme. Sarebbe molto, molto interessante. Il cuore di Marco Emilio Boga, che io ringrazio molto per essere stato qui. Grazie. Per trovare, lo dicevamo prima, i tuoi libri, semplicissimo ormai, Amazon, eccetera, ti possiamo seguire su una pagina Facebook. In teoria, poesia e regalo, però ormai adesso sto iniziando a vedere di fare la mia pagina autore. Ah, perfetto. Non c'è molto da dire, purtroppo, però... Però, vabbè, dai, tra un po' ci sarà, dai. Ok, va bene, grazie a Marco Emilio Boga per essere stato con noi. Grazie a voi. E io vi ringrazio, come sempre, per essere stati qui questa sera a seguire il One TV Show. One TV Show che torna mercoledì prossimo, sempre alle 21 e ora la programmazione di One TV non finisce di certo e va avanti. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti. Buona serata.